I fell and lost due to war, shut me dead, I was lost, I was lost, I said due to voices in my head, I gotta get up again. Salve a tutti e benvenuti con la rete degli istituti agrari in Italia, Renisa, Job Orienta. Siamo qui a Verona in questa sessione particolarissima di un virtual tour di orientamento aperto a tutte le scuole d'Italia, a tutti voi studenti. Noi siamo qui per voi, vogliamo spiegarvi che cos'è il futuro dell'agricoltura, adesso e prossimamente. I percorsi educativi non possono esimersi da considerare la scienza tenendo conto dei relativi successi e limiti. L'evoluzione storica, i metodi, i materiali che la tecnologia ci fornisce. In sintesi è necessario rafforzare il metodo scientifico e il know-how tecnologico che può aiutare e abituarsi ad un rigore, a un'operosità, a un'onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività e alla collaborazione come valori fondamentali e per realizzazione di un dialogo aperto e democratico con la società e col territorio. Questi valori per noi di Renisa rappresentano i fondamenti della Costituzione italiana e sono la base della nostra società civile. A Job Orienta parleremo di tante cose che riguardano voi studenti. Le vostre scelte sono fondamentali per il futuro della vostra vita professionale e del mondo del lavoro. Quello che interessa a noi è che voi facciate delle scelte oculate e attente. Dovete scegliere non solo con il cuore ma anche ragionando a quello che è il futuro nel mondo del lavoro. Job Orienta vi spiegherà che cosa sarà il futuro nel mondo del lavoro e aziendale ma soprattutto vi farà capire che scegliere un istituto agrario è fondamentale per la vostra vita futura. E' fondamentale sapere che il diploma di perito agrario permette l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Inoltre dopo l'esame di Stato il perito agrario può operare come collaboratore di livello intermedio in aziende sia tradizionali, biologico o biodinamico oppure in enti territoriali dei settori agricolo, zootecnico, progettazione ambientale, florovivaistico, agroambientale, servizi all'impresa o studi professionale con i ruoli molteplici. Insomma gli sbocchi professionali sono tanti. Noi vi aspettiamo a Job Orienta per scoprire insieme tutto questo e molto di più. Vieni a Job Orienta, mira, fai la scelta giusta, iscriviti agli istituti tecnici e professionali agrari. Renisa, la rete degli agrari è con te.